dai la solita accelerata via la solita accelerata via va bene dai a posto ma si ascolta, i primi magari fanno un po' più di fattiglia ma poi cominciano a rararararli si, dopo ci fa ma che lo ha fatto? sono le gambe qua era fatta la varianza ciao 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 Grazie a tutti.